Siamo a Rosencron di Napoli, amici del piccole magazine e piccole trasgressioni e questa sera verrà eletta la nuova reginetta Top Queen International ma intanto siamo qui con le due sorelle Le Blanche per sapere un po' quali saranno i criteri con cui valuteranno le concorrenti di questa sera. Sarete in giuria giusto? Siamo in giuria, buonasera, ciao. Siamo in giuria, i criteri quali sono? Questa è una serata glamour quindi i concorrenti ci dovranno affascinare. In bocca al lupo a tutte. Che cosa ci potete dire? Qualche pronostico sulla serata? Sì, in realtà abbiamo sbirciato dietro le quinte e abbiamo più o meno chiaro qualche idea però aspettiamo ovviamente l'ingresso in sala per poi giudicare veramente come si deve i vari concorrenti che parteciperanno questa sera qui a Rosencron. Certo, assolutamente, non si svela ancora nulla però sappiamo che ne vedremo delle belle quindi rimanete con noi e ci vediamo più tardi. Ciao, grazie.